Welcome back sul canale Giochi Corsani, sempre io, Ambro quinto episodio della Marvel Champions Academy e entriamo nello specifico delle carte degli aspetti farò una cosa che ho già fatto in passato in altri video farò le top 5 per le migliori carte di evento, migliori supporti e alleati per gli aspetti oggi inizieremo con giustizia e offensiva stiamo parlando di queste top pre Genesi Mutante che è l'espansione degli X-Men, dei Mutanti, che ci sarà a settembre quindi questa è una top che viene prima di quelle carte lì non considererò nemmeno le carte che sono state spoilerate già perché tutte le carte che fino a agosto 20-22 esistono prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale Giochi Corsani cosa viene? Non vi parete nessuno dei video campanellina, questa rubrica è importantissima, bellissima anche per le nuove leve e qualche consiglio in più anche per giocatori un po' più esperti quindi non perdetevelo iniziamo subito con la top 5 eventi per giustizia prima carta, entrata teatrale è un evento, è un'interazione eroe che quando ci fa intervenire dopo che siamo intervenuti e l'eroe ha tolto minacce, tutte le minacce dalla trama gli possiamo curare anche due danni quindi questo ha un'aggiunta da più due al potere del nostro eroe di intervento e ci fa curare dei danni si aggiudica la quinta posizione quarta posizione per multitasking questa è un evento che toglie minacce da più trame ovviamente se abbiamo pagato una risorsa mentale giustizia lavora molto con le risorse mentali quindi se noi paghiamo risorsa mentale possiamo rimuovere due minacce da due trame differenti molto gestibile, molto variabile, molto interessante carta alla terza posizione per la giustizia anche questa carta molto forte, classica con due risorse rimuoviamo tre minacce se di queste due risorse abbiamo pagato anche una mentale ne rimuoviamo quattro fortissima seconda posizione per una carta che io amo e amo soprattutto perché nei giochi di carte è forte cosa? pescare in un modo o nell'altro massima una per round cerchiamo nel mazzo del criminale una trama secondaria la riveliamo e poi peschiamo tre carte un gioco di carte è molto forte quando ne peschiamo tre carte vero che questa ci fa mettere una trama secondaria ma la trama secondaria la scegliamo noi quindi possiamo gestire possiamo mettere quella che riusciamo a togliere subito molto forte e al primo posto come eventi sgombrare l'area anche questa ci fa oltre a togliere le minacce pescare delle carte perché se le minacce che abbiamo tolto sono le ultime da una trama peschiamo una carta al costo di una sola risorsa fortissima queste erano le cinque degli eventi iniziamo con la top 5 supporti e migliorie sempre per giustizia intuizione eroica classicissima due risorse miglioria più un intervento a un giocatore massimo uno per giocatore se giochiamo in multiplayer o con più eroi anche se giochiamo da soli possiamo assegnarla a qualsiasi eroe semplice non c'è niente da spiegare vi ho detto prima che elementari e risorse mentali sono importanti senza la giustizia miglioria che costa due risorse ed ha la possibilità di giocare un evento usando un evento giustizia utilizzando una risorsa mentale quindi carte come multitasking e sgombrare l'aria diventerò molto importanti scusatemi non sgombrare l'aria per la giustizia con questa carta diventerò molto più forti altra miglioria un'abilità abile investigatore costa zero cosa dice? quando una trama secondaria viene sconfitta la useremo per pescare una carta anche qui pescare carte diventa molto forte nuova giunta alla seconda posizione scusatemi con allerta assegna a una trama ogni volta vengono tolte minacce da quella trama la possiamo scartare e rimuovere minacce altrettante da un'altra trama quindi a posto zero noi assegniamo una trama rimuoviamo minacce da quella trama scartiamo allerta e nuoviamo dall'altra carta aggiunta molto forte del pack di spider e poi non poteva esserci che al primo posto come supporto miglioria la carta che amo di più quella che io chiamo il forgoncino il forgoncino che si chiama in realtà sotto sorveglianza è una miglioria che costa due viene assegnata a una trama e aumenta il limite finale di quella trama di quattro assegnata a una trama principale diventa molto forte passiamo adesso agli alleati gli alleati ce ne sono secondo me di più di questi 5 che ho messo ma questi qua sono quelli che a mio avviso sono più forti iniziamo con quasar che non è quello dei vetri ma è questo eroe qua è un guardiano aereo 3 il suo costo e risorse 3 ferite 1 intervento 2 di attacco con un danno conseguente quando entra in campo rimuove una minaccia da ogni trama fortissima si spiegherà solo secondo che quindi è la quarta posizione per quake quake un intervento 2 di attacco costa solo 2 risorse ha 2 ferite ma dopo che un gregario ha tramato esaliamo quake e gli facciamo 2 danni questi gregari questi alleati sono molto forti perché costano solo 2 risorse e tutti i prossimi costeranno 2 risorse tranne il primo che ne costa 3 che dopo vedremo alla terza posizione eros eros anche lui costa 2 risorse 2 ferite 1 di intervento 2 di attacco sempre un danno conseguente dopo che ha giocato eros in base alle risorse mentali che abbiamo pagato confondiamo diversi gregari 1 risorse 1 gregario 2 risorse 2 gregari semplice se dobbiamo pagare in eccesso le carte in eccesso non servono non vengono contate le risorse in eccesso non vengono contate per l'effetto di eros secondo posto altra carta che io amo di giustizia l'altro alleato wikkan wikkan è il figlio di vanda uno dei due figli di vanda uno è speed alato wikkan 2 risorse 3 ferite già qua ha una statistica molto buona 1 intervento 1 di attacco con un danno conseguente dopo che lui è intervenuto riveliamo una carta dal mazzo degli incontri in base al numero di icone potenziamento su quella carta facciamo 8 danni a un nemico può variare da 0 fino a 3 con 4 forse non ho visto è poco di carta in conto con 4 quindi può fare anche 3 danni una volta che è intervenuto quindi è molto forte e al primo posto troviamo uno che è un alleato che non è a poteri speciali anzi magari li acquista forse nella serie tv agente Colson 3 il suo costo 3 sono le sue ferite 2 di intervento 1 di attacco con un danno conseguente la sua cosa importante è che quando entri in campo possiamo prendere una carta preparativi dal mazzo della pila degli scarti e aggiungerla alla nostra mano queste carte preparativi possono essere tipo contromisura potrebbero essere anche la carta che si può giocare solo con la spia che ci fa rimuovere le insidie è molto forte perché a costo 3 oltre ad avere buone ferite buone statistiche ci fa anche recuperare una carta che magari non possiamo utilizzare ma utilizziamo anche solo come risorse quindi è molto forte e questa era la top per giustizia iniziamo con gli eventi e le top 5 per offensiva al quinto posto dell'evento troviamo montante 3 risorse 5 danni non c'è poco da spiegare niente e fa così molto forte al quarto posto troviamo una nuova carta che si chiama senza quartiere senza quartiere è una carta evento che costa 2 risorse ha un requisito specifico che è quello fisico molte carte dell'offensiva hanno dei requisiti fisici questa è una di queste quindi dobbiamo pagare almeno una risorsa fisica per giocare questa carta e dice attacco infliggi 4 danni a un nemico per ogni danno di eccesso infligito a quel nemico riveliamo possiamo guardare una carta scattiamo una carta dalla cima del nostro mazzo aggiungiamo alla mano ogni carta offensiva non specifica evento quindi qualsiasi carta offensiva che abbiamo scattato in questo modo quindi se abbiamo un gregario che ha 1 di ferita facciamo 4 danni 3 sono in eccesso scattiamo 3 carte se quelle 3 carte sono 3 carte rosse le prendiamo tutte in mano quindi anche questa ci fa pescare forse è la prima carta di offensiva che ci fa pescare in questo senso evento terza posizione 1 alla volta è un evento che a me piace tanto perché riesce a sconfiggere più nemici insieme costa 1 solo fa 2 danni a un nemico se questo attacco sconfiggere quel nemico facciamo altri 2 danni a un altro nemico quindi gestisce molto bene i gregari ha solo una risorsa altra carta che gestisce i gregari che si prende la seconda posizione è assalto implacabile costa 2 risorse fa 5 danni a un gregario ma se abbiamo pagato fisica abbiamo soprafazioni i danni in eccesso vengono fatti al criminale anche questo è molto forte perché ha solo costo 2 risorse fa 5 danni a un gregario quindi buoni danni a un gregario anche se il gregario ha tante vite e l'eccesso eventualmente viene fatto al criminale prima posizione non poteva che fare colpo perforante colpo perforante è la carta che secondo me in tutti i mazzi offensivi ci deve essere per forza perché prima o poi ogni criminale diventa robusto grazie al colpo perforante possiamo scartare prima lo stato su robusto e poi fare i 3 danni perché ha perforante come abilità miglioria iniziamo dalla quinta posizione per attesa paziente è una miglioria che costa 1 massimo 1 per giocatore dopo che il gregario ti ha impegnato scarta attesa fa 3 danni quel gregario quindi molte volte riesce a sconfiggere il gregario prima che faccia qualcosa e quindi è molto forte seconda miglioria quarto posto abbiamo potenza marziale potenza marziale come abbiamo già visto prima senza la giustizia per giustizia ci dà delle risorse per giocare eventi attacco e che risorse ci dà veramente un po' quelle fisiche quelle che ci servono per fare i diversi effetti degli eventi al terzo posto ovviamente arte del combattimento più un attacco massimo 1 per giocatore semplice non c'è niente da spiegare secondo posto per una nuova carta tecnica perfezionata miglioria costa 3 è un'abilità ha un requisito specifico magari non molto abietto diciamo per l'aspetto offensiva che sono requisiti mentali però una volta che è in campo è fortissima ha un'interruzione che ci fa aggiungere all'attacco al danno il valore di costo e risorse di quell'evento per esempio se nel caso di montante se ha fa 5 danni più altri 3 8 danni quindi al costo di 3 risorse di montante con grazie tecnica perfezionata faremo 8 danni molto forte quindi diventa tutti come le carte per esempio di spiderman davvero davvero forte e al primo posto come miglioria abbiamo un'arma jambiorn o gambiorn dipende come si legge è un'arma di asgard restrizione vuol dire che possiamo avere fino a 2 carte con la parola restrizione in campo e dice dopo che hai il tuo eroe attaccato un nemico qualsiasi anche se non lo distrugge possiamo usare una risorsa fisica se lo facciamo facciamo 2 danni a un nemico quindi anche questo è molto forte ogni volta che attacchiamo facciamo anche altri danni e queste erano le migliorie possiamo passare adesso invece a quelle che sono gli alleati e al quinto posto troviamo brown è un alleato che fa una cosa che non esiste in offensiva o esiste molto lateralmente toglie delle minacce intanto costa di 3 risorse e 5 ferite quindi pare molto bene anche gli attacchi del gregari in per di più lui interviene 1 e attacca 1 ogni volta che attacca però rimuove anche una minaccia da una trama molto forte secondo alleato ma quindi la quarta posizione torg torg è forte perché a costo 2 ha 2 ferite 2 di attacco e un intervento con un danno conseguente ma se siamo impegnati con il gregario prende robusto quindi oltre ad attaccare molto bene ci difende anche molto bene e ha un costo molto basso in risorse terza posizione per bug bug è il guardiano alleato invincibile io lo chiamo nel senso che ha 2 risorse 2 ferite un intervento con un danno conseguente ma ogni volta che il nostro eroe attacca curiamo un danno a bug quindi cosa succede bug interviene attacca di 1 attacca l'eroe lo curiamo e così via ci sono mazzi molto personalizzati molto buildati molto customizzati che rendono bug con un attacco fortissimo in modo che attacchi solo lui e fa sconfiga tutti secondo posto per spider girl costo di 2 risorse e 2 di attacco quando entra in campo confonde e stordisce un gregario costo basso ci blocca un gregario magari molto forte per un turno o anche 2 e al primo posto c'è sempre lui secondo me è fortissimo anche se ha delle conseguenze molto importanti impattanti sul gioco Hulk costo di 2 risorse a 5 ferite è già qua quindi possiamo utilizzarla anche solo per difenderci non serve nient'altro in più se costriamo bene il mazzo possiamo limitare le sue conseguenze al minimo indispensabile ovviamente bisogna giocare meno possibilità di risorse mentali o jolly o magari se possiamo giocare anche le jolly tanto fa tutti gli effetti e massimizzare quelle che sono le energetiche che fa un danno a tutti o addirittura le fisiche che fa due danni a un nemico quindi ogni volta lo fa anche perché il suo danno conseguente è solo uno quindi attacca di 3 con un danno conseguente fortissimo bene e questi erano gli aggiornamenti gli update sulle mie top dei due aspetti giustizia e offensiva ovviamente commentate se avete dubbi domande vero anzi angosce e commentate anche sulle vostre idee di queste top 5 quali sono le vostre top 5 al prossimo video ciao a tutti